Buon pomeriggio a tutti, siamo qui con Peppa More che è arrivato terzo con Drytron Che dici Peppino, com'è il mazzo? È Brogan, però ho perso la finale E va bene, questo è perché sei scarso Contro quello schifoso di Romeo che ha giocato in Easter Benvenuti a Exodus Game Back Semplicemente perché sei scarso e non sai giocare, non più il mazzo Comunque, facci vedere un po' questa profile Allora, intanto me la direi Match up, match down Ho vinto contro Maschediro Fortissimo No vabbè, quando fai Darklow Pass Io faccio così, proprio Dovevo giocare Ho vinto contro Maschediro, ho perso in finale contro Attingister Ho vinto contro Sky Striker, credo È un altro mazzo È un altro mazzo che non mi ricordo Comunque, giochiamo Wife Brogan Manda Araldo Brogan Miglior Drytron del mazzo Quindi Benten Loro sono Benten Quindi tre Benten Tre Benten Tre Rituali Upstart Soul Charge Un'altra Benten Benten scarsa Quella che rimuove Benten Carta fortissima, ho vinto contro Maschediro rubandogli plasma Se non lo giocate Non lo giocate Non ha senso giocare il mazzo, troppo forte Con ruling di Mubeta, usate Mubeta un materiale e fate lui Carta certo del mazzo Carta certo del mazzo Endboard è lui più 36 negate Doppia eva perché è forte Se la vedi in mano non ha negate in più Ed è lì all'ultimo Endrop Tre Gamma Tre Veiler Grazie Per fare Normal Veiler Normal Se avrete un Drytron che può scartare Fate Normal e fate Mubeta Ma gioco è full combo Se no mi ha interrotto Teleport Magia Rituale Carta di merda Ma dopo che hanno bannato Drytron di nuovo Si può giocare perché letteralmente è l'unica carta che non moriva da Drytons Perchè comunque se ti spaccano Se ti spacca un Drytron con Drytons Almeno avevi tradotto value Qua è stata attiva Drytons spacco e non fa un cazzo E' forte contro tipo i Virtuord che girano a local se ci sono Contro OBA, queste cose qua Cose strane girano a local Tre Alpha Colled Colled Di Extra Quando banderanno Araldo giocheremo lui Gli Extra Tre Snauz 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 Carta broken del mozzo Questa carta dice Questa è una carta di Magic Beatrice non in B.A. Quindi è ancora più forte Zuz Araldo doppio Pensavo di cattarne uno per giocare Black Rose Ma non lo so Rimuove Zeus Colled Non dire rimuove Zeus perchè l'hai fatto oggi una volta Lo faccio sempre su Zeus Non gioco sempre su Zeus Leva Zeus Colled OTK OTK Leva Boh, siamo un limit Matteo Matteo Cometa Parlo con te inutile Questa carta è più forte Combo Linkuribbo Decide Salamagna Salamagna fai schifo Se mi tirano ogni tanto Shadow Invoca e The Winda mi fa cacare Levo Meciab Levo cose strane Dragoon Se la magna fai schifo Non voglio prendermi dark ruler 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 Va bene Vuoi ringraziare qualcuno? Ringraziamo Alberto di Teresa per avermi prestato metà dell'extra Nell'extra c'è una pollo usa che non c'è Perché è di Alberto Ringraziamo Manfredi Brusca per avermi fatto diventare un ludopatico schifoso E il miglior venditore è Culliver, Jamaica, ti amiamo Ringraziamo Ritorna presto Ringrazio Culliver